ciao amici buongiorno dal coworking arte facendo di san giovanni rotondo sono domenico antonacci oggi vi mostrerò una nuova funzione di whatsapp for business la versione del programma di messaggistica dedicato a professionisti e commercianti andiamo subito a vedere di cosa si tratta entro nel gruppo di caffè carbonelli e faccio delle simulazioni insieme a voi si tratta praticamente una nuova funzione chiamata catalogo che permette di inserire all'interno di gruppi e chat private un vero e proprio catalogo di prodotti o servizi che vogliamo vendere ne andiamo a creare uno andiamo a creare una voce di prodotto è un procedimento molto semplice e veloce io chiaramente ho già preparato tutto per velocizzare l'operazione e quindi vado di copia in colla le voci principali sono foto nome e prezzo possiamo scegliere se inserire anche la descrizione cosa che consiglio di fare chiaramente è anche un link magari e quindi inseriamo anche il link l'ultima voce così prodotto servizio non è obbligatoria permette di gestire più facilmente un elenco di prodotti molto più vasto possiamo inserire anche altre immagini ora vado a salvare il prodotto che verrà sottoposto ad approvazione da parte di whatsapp per evitare insomma delle inserzioni illecite vedete infatti quest'icona in alto e sinistra della fotina una volta approvato il prodotto quindi nel caso del mio secondo in basso non ha già l'orologio lo vado a inviare direttamente nel gruppo vi comparirà quindi in questa maniera cliccando su mostra andrete su una pagina che vi darà tutti i dettagli che abbiamo già inserito è una funzione molto utile molto interessante sicuramente sarà molto più utilizzata da adesso in poi per fare operazioni di whatsapp marketing un saluto a tutti da domenico antonacci ciao